Musica Morto il professor Paolo Gulino, segretario e cittadino del Partito Democratico, membro della direzione provinciale del PD. Gulino ha ricoperto l'incarico di assessore anche per un ventennio di consigliere comunale. E il sindaco Garozzo esprime tutto il suo cordoglio. Se n'è andato un amico e un dirigente politico amministratore che si è speso per il bene della città e per la difesa del territorio delle speculazioni edilizie. Paolo è stato importante, dice Garozzo, per la formazione politica mia. Lo è stato prima come capogruppo o come segretario cittadino del PD quando è toccato a me guidare il gruppo consigliare. Non dimenticherò le comuni battaglie contro le scelte urbanistiche sbagliate e sui puntuali interventi in aula su tutte le questioni più scottanti. La sinistra siracusana e la città perdono un protagonista assoluto che merita di essere ricordato in maniera degna. A nome di tutto, dice il primo cittadino di Siracusa, partecipa al dolore della famiglia. Ed esprime cordoglio anche il segretario provinciale del PD, Alessio Lo Giudice, che ricorda come il professor Paolo Gulino ha ricoperto nella sua lunga carriera politica importanti incarichi sia politici che amministrativi e che ha svolto sempre con grande competenza e rigore. Sino a poche settimane fa, dice Alessio Lo Giudice, ha continuato con passione a contribuire alla vita politica della sua città e del suo partito. Ero legato a Paolo anche perché nella prima fase del mio impegno ho avuto il privilegio di far parte della segreteria cittadina da lui guidata. Lo ricorderò sempre per la sua attenzione progettuale, per la lucidità con cui è sempre posto il tema della sana pianificazione urbanistica, quale presupposto civico per lo sviluppo della città, la tutela del territorio e la salvaguardia etica della nostra comunità. A nome del PD provinciale lo abbraccio per l'ultima volta, strincendomi alla sua famiglia in questo triste momento. Intervento è notato dai carabinieri della stazione di Cassibile che hanno tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti Salvatore Calderone. 52 anni agricoltore pregiudicato per reato specifico. I carabinieri sono intervenuti all'interno di un casolare posto su un appezzamento di terreno in uso al Calderone, dove hanno ritrovato 47 piante di canapa indiana dall'altezza di 80 centimetri circa, già in fase di essicazione da cui si sarebbe ricavato un significativo quantitativo di marijuana pronta per lo spaccio. L'uomo posto agli arresti domiciliari. A Lentini nel pomeriggio di sabato i carabinieri invece hanno tratto in arresto un 27enne pregiudicato. L'uomo non si era fermato ad un posto di controllo effettuato dai carabinieri sulla strada provinciale 194, dandosi alla fuga. Un'improvvisa accelerazione per scappare con la macchina. Ha invocato anche la rotonda sulla strada S194 per proseguire sulla SP5 direzione Buccheri. Proprio nel primo tratto della strada provinciale un rettiligno di ampia visibilità ha lanciato dal finestrino un sacchetto di plastica contenente 43 grammi di sostanza stupefacente. L'uomo è stato dichiarato in arresto e collocato agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Agenti della Polizia di Stato di Augusta hanno fermato Albino Moreno, domiciliato a Villa Smontofrazione di Melilli. Sarebbe uno dei due giovani che ha effettuato la rapina in contrada a Scardina ad un supermercato giorno 15 settembre alle 20.15. Gli operatori hanno effettuato le indagini che hanno permesso di accertare che due giovani, uno dei quali armato di pistola, aveva intimato a un cassiere di consegnare loro il denaro. Successive indagini hanno permesso di raccogliere utili elementi a carico dell'uomo arrestato che lo hanno indicato come uno degli autori della rapina e detentore dell'arma utilizzata per perpetrarla al furto. Nella mattinata di l'altro ieri è stata effettuata una perquisizione domiciliare a casa del Moreno che ha consentito di rinvenire e sequestrare la pistola salva relativo a munizionamento consistente in 47 cartucce, identica per fattura a quella della rapina. Sono stati trovati i nuventi indossati dai due rapinatori alla somma di 320 euro. Durante la perquisizione sono stati sequestrati pochi grammi di sostanza stupefacente di tipo marihuana. Sono in corso ulteriori indagini atti a identificare il secondo rapinatore. Sono 360 nelle prime due settimane le domande presentate all'assessorato e le politiche sociali del comune di Siracusa per la partecipazione al programma SIA a sostegno per l'inclusione attiva finanziato con fondi PON. Il dato riguarda la sola città ma le iniziative messe in campo sotto il coordinamento dell'assessore Sallicano interessano l'intero distretto socio sanitario di 48 che raccoglie 11 comuni del quale Siracusa è capofila. Il programma non prevede un termine finale per la presentazione delle domande. Il SIA prevede la consegna di un sussidio a famiglie povere con minori, disabili o donne in stato di gravidanza. Per la valutazione dei requisiti si fa riferimento al reddito ISEE. L'erogazione avverrà dopo l'adesione a progetti personalizzati di attività sociale e lavorativa per i quali l'assessore ha avviato una serie di incontro con le organizzazioni che rappresentano il mondo del lavoro, gli imprenditori, il commercio, l'artigianato, l'agricoltura e il sociale. Critico sull'argomento è il consigliere comunale di progetto Siracusa Salvo Sorbello. Il comune notifica di aver ricevuto, dice Sorbello, 360 stanza. Il sottoscritto interroga l'amministrazione però per sapere cosa aspetti a rivedere subito le tariffe per asili nido, per questi nuclei familiari che sono chiamati a pagare rette consistenti pur fruendo di redditi riconosciuti insufficienti e meritevoli di sostegno. Da un lato il comune eroga fondi statali alle famiglie bisognose, dice Sorbello, dall'altro se li riprende pretendendo da loro rette insostenibili per la frequenza degli asili nido. Il vice sindaco e assessore al Centro Storico Francesco Italia insieme agli assessori alla mobilità e alle attività produttive hanno incontrato gli esercenti del settore ristorazione di Ortigia. La modifica ai varchi di accesso alla ZTL e le problematiche connesse alla sua entrata in vigore legate al servizio navette e parcheggi sono state al centro del dibattito. A breve, ha dichiarato l'assessore alle mobilità ad Ario Bela, cambierà il percorso delle navette e il trenino turistico che collegano il parcheggio di Vielurina con il centro storico. I mezzi comunali potranno percorrere la corsia preferenziale di Corso Umberto, evitando quindi dei fili e assicurando il trasbordo dei passeggeri in Ortigia in pochi minuti. Mi preme sottolineare comunque, aggiunge Bela, che le nuove disposizioni non hanno inficiato minimamente lo spirito della ZTL, che di fatto è rimasta la stessa, cambiando solo il barco di accesso. Sarà nostra cura incrementare la comunicazione e rendere più performante la cartellonistica. Nel breve periodo abbiamo pensato ad altre iniziative. Il Comune parteciperà a un bando per l'ambilamento dei parcheggi di Vielurina e Vomplate, nel cui ambito è prevista la fornitura di nuove navette. È la Capitaneria di Porto adattato il proprio assenso all'utilizzo dell'area demaniale adicente al Molo Sant'Antonio per il transito dei bus navetta da e per l'area sosta di Vielurina. Sarà potenziata la vigilanza alta letta per migliorare la qualità del servizio e la sicurezza allo studio l'obbligo per il pullman turistici di sussare nel parcheggio di Vielurina, liberando quindi circa 200 posti auto al Molo Sant'Antonio. Ci saranno anche dipendenti dell'Agenzia di Avola tra i lavoratori SNAI che mercoledì prossimo 21 settembre incroceranno le braccia per lo sciopero regionale indetto dalla FISA SCAT CISL. Alla base della protesta, le recenti comunicazioni della società, che ha confermato l'intenzione di chiudere o vendere le agenzie dislocate nel territorio siciliano a causa del deficit accumulato. SNAI ha confermato che nel 2015 SIS, la società che gestiva precedentemente le rete di agenzie, ha accumulato una perdita di 11 milioni di euro e per il 2016 le perdite di sono 560 mila euro a mensili. La FISA SCAT CISL ha già proclamato lo stato di agitazione su scala regionale e mercoledì i lavoratori sciopereranno per l'intera giornata. Martedì 20 saremo in assemblea dalle 15 alle 18. Le comunicazioni della società non sono confortanti, dice Vera Carasi, segretario generale della FISA SCAT Ragusa Siracusa. Noi saremo al loro fianco perché ci siano risposte più certe da parte dell'azienda. L'ipotesi di piano presentata non ci soddisfa e non garantisce alcun modo ai lavoratori. Quarto istituto comprensivo Quasimodo e il liceo Leonardo da Vinci di Floridia hanno organizzato sabato 17 una giornata della tecnologia dedicata ad Archimede. Una scuola Quasimodo sulla scia del progetto Archimede realizzato lo scorso anno con, tra le altre iniziative, una mostra dedicata allo scienziato siracusano e la partecipazione alle feste Archimede di Siracusa che presenta quest'anno agli alunni, così come dice lo stesso dirigente scolastico Salvatore Cantone e al territorio una serie di piacevoli e interessanti iniziative per far riscoprire questa eccezionale figura nella nostra storia. Nella mattinata sono stati esposti i lavori degli alunni e realizzati in loco semplici esperimenti scientifici. Inoltre, in collaborazione col Tecnoparco Archimede di Siracusa è stato presentato un modello del famoso specchio store e si sono effettuati i giochi con lo stomacchio in Archimedeo. Il signor Di Bella ha presentato il suo prototipo di auto solare Archimede prima di partecipare ad una competizione internazionale in Belgio mentre il signor Rovella ha presentato il suo robottino tanto simpatico quanto ballerino che si chiama Archimede effettuando esperimenti scientifici relativi ad elettricità e magnetismo. Attività similari si sono svolti anche nel liceo scientifico dove, attraverso l'osservatorio astronomico e soprattutto la centrale a pannelli fotovoltaici gli alunni sono stati accolti nella terrazza del liceo poi nell'aula di fisica e sperimenti in mese sia fisici che chimici. L'evento è stato aperto ad alunni e famiglie di tutte le scuole floridiane siracusane. Il trotto sabato pomeriggio ha salutato Siracusa e lo ha fatto con il successo di Urania B veloce, duttile e regolare come da pronostico ha chiuso la lista dei vincitori all'ippodromo del Mediterraneo la figlia di Equinos B che risolve l'ultimo centrale di trotto di scena sulle piste leader dall'ingresso e addirittura d'arrivo subisce la pressione di unica caffè Urania Man i quali non la lasciano scappare fa bene i conti però il driver Messineo che riesce a tenere a bada tutti i tentativi degli avversari uniche Urania affermano la seconda e la terza moneta domenica invece è tutto interamente dedicato il pomeriggio al galoppo vola pure funk e dopo il buon debutto romano cancella la qualifica di Maiden e in totale controllo decide il premio Karamazov Maiden sui 1400 metri della pista piccola che ha impegnato i giovanissimi si è presentata in vantaggio e addirittura d'arrivo e 300 metri dal palo Sebastiano Guerrieri ha ingranato la marcia in più pure funk accelera e si svincola da Alda e Basta e Frizzi Special giunti per la seconda e terza moneta il galoppo è impegnato adesso domenica 25 con un handicap principale C il premio Nastrodoro di Sicilia abbinato anche ad un evento collaterale che porterà tanti bimbi attraverso associazioni musicali artistiche, sportive a realizzare una città per i bambini A presto di regio